ricetta di oggi rombo chiodato alla mugnaia con zucca in carpione e maionese al mandarino spilettiamo il pesce zucca freggiamo la zucca prendiamo un cipollotto tagliamo a listarelle lo mettiamo a rosolare un po di aceto di mele del miele e delle erbe aromatiche ed ora tocca la maionese alle clementine grattugiando la buccia ricaviamo il succo un uovo frulliamo olio di semi olio extravergine di oliva frulliamo un pizzico di sale e la buccia grattugiata terminiamo con la cottura del rombo chiodato quindi olio all'interno della padella pizzico di sale burro facciamo sciogliere leggermente capperi dissalati acciughette nappare impiattiamo zucca filetto prezzemolo maionese delle fettine di clementina essiccate al forno pronto da mangiare grazie grazie grazie